I carabinieri della tenenza di Mister Bianco, con l'ausilio del nucleo cinofili, hanno arrestato in flagranza un 43enne pregiudicato del posto, responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri, al fine di dar riscontro alle informazioni raccolte, si sono presentati nell'abitazione della 43enne, a loro già noto per pregresse vicende giudiziarie, dove hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All'esterno di un terrazzo non è sfuggito all'infallibile fiuto del cane Rilei, la presenza di una vaschetta di gelato, ben occultata all'interno di un portaombrelli, contenente quasi 200 grammi di marijuana. Una parte era suddivisa in otto dosi, tale da lasciar presumere il fatto che dovesse essere smerciata. Nello stesso portaombrelli, i militari hanno trovato anche una dose di cocaina, un bilancino di precisione e un pizzino riportante, somme di denaro in corrispondenza di alcuni nominativi. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Il giudice ha poi applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.